Buongiorno a tutti, oggi io istruttore di canoa e il qui presente Gianni istruttore di canottaggio presenteremo un lavoro aerobico e anaerobico con combinazioni di esercizi insieme al remo ergometro e al pagai ergometro chi è che vi esporrà è il qui presente coach Allora grazie e niente questa è un'esercitazione che stiamo provando per voi e per migliorare le vostre prestazioni sperando che la vostra crescita sia una buona crescita da atleti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti